Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILIP. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, un chilometro di coda in direzione Firenze, tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti in direzione Mare tra Ginestra e Montelupo. In direzione Pisa, un chilometro di coda per traffico intenso tra Cascina e Navacchio. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A causa di una frana è stata chiusa la strada provinciale 556, l'onda stia al chilometro 4 più 500. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!